Non c'è la scena da film di uno che è in macchina, entro o non entro, entro o non entro, poi entra e ti dice sottovoce Ho un piccolo problema e il farmacista ha un piccolo problema? Quello non succede O tranne se hai un po' di confidenza E se c'è solo lui o lei Rieccoci qui in un nuovo episodio con la guida della salute in onda ogni settimana in collaborazione con la farmacia guida di Verzenis C'è un uomo che risponde a un sacco di domande, il nostro supereroe della salute, ciao Pierluigi Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì Eccoci, sei molto estivo oggi con la camicia così, molto guagliano Io sentivo questo clima Ah, questo clima è freddissimo Esatto Va bene, uguale Allora, oggi abbiamo, è il bello della domanda, non ha un'identità, ma per un motivo ben specifico Perché ci chiedono come vincere l'imbarazzo nella richiesta dei farmaci E questo magari potrebbe sbloccare anche il fatto che la domanda è in anonimo e magari la prossima volta è in pubblico Ok, ok, ok Quindi ci sono dei farmaci che creano un muro tra la persona e il farmacista Più che altro delle esigenze Sì Ok, più che altro delle esigenze Ma questo qui sta anche, ti ripeto, nella bravura del farmacista stesso a mettere a proprio agio, insomma, la persona Eh sì Pure perché la prima cosa che può venire in mente, no? Allora, a parte che te ne accorgi subito, no? Quando cominciano a dire, no, no, fai passare avanti l'altro, fai passare avanti l'altro Sta tutto il giorno in farmacia Capisci che c'è qualcosa, quindi anche lì, no, noi abbiamo praticamente già all'interno della farmacia un altro studietto Quindi dico, ma hai bisogno di parlare in privato, tecnicamente, quindi già lo togli dal bancone Ed è un'ottima cosa Capisci che praticamente è un passo avanti Per quanto riguarda gli uomini, diciamo che le categorie più o meno sono due Una è il discorso della disfunzione rettile, no? Comunque comincia il discorso da Io non ho problemi, sono una persona molto sportiva, mangio bene Però Dopo una ventina di minuti, insomma, dei superman Esce fuori, insomma, che giustamente è arrivata a una certa età Infatti la prima cosa che dico, dico, guarda, che è un discorso fisiologico Perché è arrivata a una certa età Gli uomini hanno i loro problemi, le donne le loro E quindi, alla fine, però, la chimica, insomma, da quel punto di vista ci aiuta Per fortuna Quindi questo qua è la prima cosa che ti potrebbe venire in mente Ma dove vedo che praticamente c'è un pochetto più di resistenza Più all'inizio, adesso molto molto meno Sono le donne quando ti devono parlare appunto di disturbi intimi, no? Però quando vedono poi la facilità, la tranquillità con la quale vengono fatte determinate domande Perché anche lì, no? Cioè, non è che c'è un rimedio per tutto Cioè, devi capire prima di tutto qual è il problema, no? E quindi poi, quando, che ne so, mettiamo il fatto che una donna, una signora Venga a prendere una crema per un bruciore intimo, no? Devi comunque chiedere a che livello è il bruciore Quindi, che ne so, quando cominci a vedere che tu ne parli tranquillamente Dicendo, ma perdoni, lei il bruciore lo sente a livello delle grandi labbra, delle piccole labbra Quando lei va in bagno Si tranquillizza, si sente un po' più Sì, nel senso, vedi che se ne può parlare con tutta la tranquillità del mondo Ovviamente non di fronte al popolo No, perché sennò poi diventa complesso lo stesso Esatto, esatto Quindi, lì vedono che non c'è problema Ecco, il discorso, vedi, di essere professionisti, no? Alla fine dei conti, anche quelle cose lì dimostri Che tecnicamente se ne può parlare tranquillamente Un'altra cosa, delle quali c'è ancora un po' di tabù Ma, insomma, relativamente, se dovessi mettere in fila La scala, la classifica Esatto, la classifica e il discorso delle creme per l'emorroide E quelle cose lì, no? Che poi, insomma, per quanto riguarda le donne Non è una cosa quasi normale Se pensi già al postparto Sì, sì, come abbiamo già detto Esatto, quindi non è che c'è E in più, praticamente, lì me la tiro fuori Sempre con una battuta, no? Perché, praticamente, già Professore di anatomia Di fisiologia, fisiopatologia Tutti quelli Quando si parlava, appunto, dell'intestino Alla fine, no? Si parla di tutto lo sfinteranale Del plesso, delle cose Perché i farmaci vengono assunti anche per via anale E quant'altro Quindi, poi, le disfunzioni dell'apparato Ergo l'emorroide, no? E quindi lui diceva Voi ricordatevi una cosa Che il mondo è diviso in due categorie Chi ha avuto e chi avrà l'emorroide Ok, siamo destinati a questo Quindi quella lì, insomma, diciamo Che è una massima che mette d'accordo Un po' tutti, insomma Poi, per tutto il resto Ci sono persone che si imbarazzano Più o meno, diciamo Più o meno su qualche argomento Ma diciamo che Quello che deve dimostrare Il professionista sanitario Il farmacista Il medico che sia Ma figurati Quei medici sfondi una porta aperta Perché, ti ripeto Lo fanno Di default E mettere a proprio agio Le persone Quello che abbiamo visto È che un ambiente protetto In farmacia Fa la differenza Cioè, adesso vedi Che le persone dicono Ti posso rubare 10 minuti Finisci al banco Quando hai un momento Se ti posso parlare E quindi si sentono pure loro Coccolati in una zona Di comfort Che comunque Alla fine Come al solito Per arrivare Alla soluzione del problema Devi per forza approfondire Fare delle domande E quei 5-10 minuti Devi dedicarli per forza Non c'è la scena da film Di uno che è in macchina Entro o non entro Entro o non entro Poi entra E ti dice sottovoce Ho un piccolo problema E il farmacista Ha un piccolo problema Quello non succede Oltre anni Se hai un po' di confidenza Se c'è solo lui O lei Comunque sì, dai Liberatevi No Nessuno vi giudica No, assolutamente Sono al vostro servizio Sì, sì Pure perché devi pensare C'è sempre chi sta peggio di te Perché tu pensi Che quella cosa lì Ce l'hai solo tu Invece quando fai capire Che entri in una casistica Molto ampia E tecnicamente Tutte le persone che vedi Da un'età in poi Quel problema O ce l'hanno giù di lì Insomma Si capisce Che poi se ci sono Anche i farmaci Per quel problema E perché evidentemente C'è qualcuno Che usufruisce E per fortuna Ci sono Direi Quindi Quesito di oggi Risposto Detto così E ci sentiamo Alla prossima puntata Va bene Va bene Grazie 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 a voi E buona giornata Il prossimo quesito In campo medico Potrebbe essere il tuo Inviaci la tua domanda Al 347 891 0716 La farmacia guida A Chiaulis di Verzegnis È pronta a risolvere Ogni tuo dubbio Sulla salute Grazie 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 Grazie